Parole violente e minacciose nei confronti del Presidente della Regione Veneto sui social. Chi non è concorde sui vaccini lo attacca in chat. Tutto bene se l'utente scrivesse il suo post esprimendo un pensiero, ma le caratteristiche di molti messaggi sono minacciosi e violenti. Tra gli obiettivi Zaia, ma anche molti altri esponenti territoriali. Leoni da tastiera, gente che si crede non identificabile o veri soggetti pericolosi, la Digos sta passando a setaccio numerose chat e i nomi di molti utenti che hanno scritto messaggi inquietanti sono già nel registro degli indagati. L'ira dei Novax ha dei contorni in molte circostanze inquietanti. Secondo quanto pubblicato dall'Ansa, non sarebbero mancate le incursioni anche sotto casa del Presidente della Regione con tanto di firmati online.